Ciao ragazzi, questa mattina andremo a pescare sul Ticino gli Astri, stiamo andando in un posto segreto, segretissimo E' cappottino, andremo, proveremo questa mattina a utilizzare varie tecniche per vedere di insinare un pesce ormai diventato re del fiume di Cino, lo chiamerei il signor Aspio Questo pesce è nato in creatività, è cresciuto in creatività e morirà in creatività, si riproduce in creatività e vive in creatività Ancora ci sono i sentimenti umani di cui appunto facciano l'argotilizzo gli agenti atmosferici della balle L'attrezzatura? L'attrezzatura è sicuramente molto importante in questo caso E' possibile la tua disciplina con il tre, con un mulinello? Non lasciate stare, mi chiede che dice lui Allora, l'attrezzatura, sicuramente andremo ad utilizzare vari tipi di attrezzatura, dalla canna a due mani Vale, cose, galleggiate, affondarti, in base a casi E il nostro Gianfranco, detto schizzo vecchio, utilizzerà l'attrezzatura detta... Ciao, va bene! Spinning Ehi! Ehi! Vabbè quello che si fa... Oh! OHHHH! 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 Ci stavo bene addosso Ma dai... Ehm... Insomma che... Stavo dicendo? Quindi spinning, tutti attrezzati con le due mani e solo un coglione con la mano singola Chemo, chemo, chemo